buongiorno a tutti sono nicolas dell'agenzia di viaggio finché sarà il vostro tour leader in questo viaggio vi auguro di vivere un'avventura unica indimenticabile che al vostro ritorno potrete raccontarla con il sorriso sulle labbra per questo abbiamo pensato per voi un programma studiato nei minimi dettagli per farvi vivere emozioni indimenticabili per svagarvi e farvi staccare la spina dalla vostra vita quotidiana vi chiedo cortesemente di rispettare tutti gli orari prestabiliti nelle diverse attività per poter fare tutto ciò che abbiamo programmato per voi e anche di comunicarci qualsiasi spostamento extra che vorreste fare in questo modo da avere sorveglianze rispetto tra tutti noi il primo giorno inizia con il ritrovo all'aeroporto di orio al sedio di bergamo una volta atterrata l'aeroporto big in il di londra si prenderà la metro verso verso wimbledon per pranzare al sacco tutti insieme nel parco wimbledon park nel nel pomeriggio si terrà il check in al nike's hotel quattro stelle e di seguito si farà una passeggiata presso wimbledon park per la seconda giornata è prevista la visita al museo di tennis e di seguito assisteremo la partita di semifinale il terzo giorno si svolgerà a londra dove si potrà visitare lo stadio di wembley e di seguito si farà un giro panoramico sulla ruota londonai successivamente è inevitabile non fare una pausa a te presso il the london pub per il quarto giorno la mattinata si svolgerà nella spalla dell'hotel di seguito assisteremo alla partita di finale del torneo di wimbledon mentre il quinto giorno si terrà a londra con la visita delle attrazioni più famose della città l'ultimo giorno abbiamo organizzato un picnic presso wimbledon il wimbledon park e di seguito si effettua rientro a casa trascorreremo molto tempo insieme spero di far presto la vostra conoscenza intanto vi ringraziamo e grazie per la vostra attenzione